Andiamo all'inizio degli anni sessanta ragazzi, da qua è nata una parte di tutta la musica che ascoltiamo secondo me, secondo anche Tampuolo. Tampiolo. Andiamo all'inizio degli anni sessanta ragazzi, da qua è nata una parte di tutta la musica che andiamo all'inizio degli anni sessanta ragazzi, da qua è nata una parte di tutta la musica che andiamo all'inizio degli anni sessanta ragazzi, da qua è nata una parte di tutta la musica che e 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